Musica Seminario ad Unicam della dottoressa Vuono dell'Università di Cambridge su Etica e Ricerca. È iniziata ieri sera la sfida scienziato a chi? Primo appuntamento con la Scuola di Bioscienze e Medicina Veterinaria. Lo spin-off Unicam Mumo crea profumi dedicati alla storia di Paola e Francesca. Nei giorni scorsi il Rettore ha dato il benvenuto ai nuovi dottorandi Unicam. Buonasera e bentrovati a tutti voi a questa nuova puntata di Unicam News. Questi i titoli li abbiamo sentiti ma vediamo subito il primo servizio. Romina Vuono, dottoressa di ricerca in Biologia e ricercatrice presso il prestigioso Behavioral and Clinical Neuroscience Institute dell'Università di Cambridge, ha tenuto nei giorni scorsi in Ateneo un seminario sui rapporti tra Etica e Ricerca nell'ambito delle attività formative della School of Advanced Studies di Unicam. La dottoressa Vuono ha conseguito il dottorato di ricerca in Italia ma al pari di tanti altri talenti italiani ha potuto sviluppare le sue innovative ricerche soltanto andando all'estero, dove si sono aperte per lei le porte di uno dei migliori centri di ricerca del mondo, in cui sta sviluppando con successo studi sulle malattie degenerative come Parkinson, Alzheimer e malattia di Huntington. Io sono partita con uno studio sulla demenza, frontotemporal dementia, demenza frontotemporale, dall'Università della Calabria. Ho fatto lì il dottorato su questa patologia e da lì mi sono innamorata delle neuroscienze. Mi sono detta che voglio trovare il perché della demenza e capire come fermarla perché se capiamo le cause, se capiamo il processo, siamo in grado di intervenire. Poi mi sono spostata dopo il dottorato a Cambridge, sono stata fortunata, è passato questo treno e mi sono resa conto che era un treno da prendere perché bisogna andare fuori per capire che siamo in grado di fare questo lavoro, vivere la competizione e sopravvivere alla competizione. E lì sono al Dipartimento di Neuroscienze, sono rimasta a lavorare nell'abito delle demenze. Uno dei miei progetti più importanti lì è stato quello di aver individuato in una patologia come Huntington, che è genetica, cioè sia a Huntington se si ha un difetto genetico, noi abbiamo scoperto che c'è una proteina che è molto importante nell'Alzheimer, la Tau, che ha un ruolo fondamentale anche nello sviluppo del Huntington e siamo stati i primi a uscire fuori con questa ricerca in contemporaneo con altri studi che sono accaduti a livello internazionale. Questo ha aiutato a capire che una malattia genetica non è solo il difetto genetico di quella proteina, l'antintina, che alla fine porta a Huntington, ma ci sono differenti players che alla fine giocano assieme e tutti contribuiscono al ruolo finale. È iniziata ieri sera Scienziato Acchi, la prima sfida a squadre tra gli studenti delle scuole di Ateneo, fortemente voluta da Unicam sia per offrire momenti di svago e di aggregazione per gli studenti, sia per accrescere il senso di appartenenza alla scuola. Il primo appuntamento è stato per gli studenti della Scuola di Bioscienze e Medicina Veterinaria, che ieri sera si sono sfidati per decretare la squadra migliore che li rappresenterà nella finale. Vincitore è risultato il gruppo Sambio, composto dagli studenti del corso di laurea in Biologia della Nutrizione, che si sono aggiudicati la finale del 9 maggio. Sostenuti calorosamente da amici, colleghi e docenti, i ragazzi hanno dovuto rispondere a domande per nulla semplici, sia sulle tematiche che affrontano quotidianamente nel loro percorso di studi, sia di cultura generale. La serata è stata aperta dai saluti del rettore Unicam Claudio Pettinari, presente anche il pro-rettore alla didattica Luciano Barboni. Prossimi appuntamenti, mercoledì 14 marzo, quando a sfidarsi saranno gli studenti della Scuola di Scienze e Tecnologie e il 22 marzo ad Ascoli Piceno per la sfida alla Scuola di Architettura e Design. Lo scorso 14 febbraio il Comune di Gradara ha presentato al grande pubblico i due profumi dedicati alla storia immortale di Paolo e Francesca, realizzati dallo spin-off Unicam Mumu, emozioni sensoriali, in collaborazione con l'amministrazione comunale di Gradara. Le fragranze sono nate da una ricerca orientata al recupero delle materie prime autoctone del versante adriatico ed utilizzate in epoca medievale, da erbe officinali e fiori, quali l'iris e la violetta, fino a resine preziose, incensi e legni dall'Oriente. Ispirato all'immagine dantesca del quinto canto dell'Inferno, è il gioco particolare che si potrà fare con entrambe le essenze, così come le anime dei due amanti sono unite in uno stretto abbraccio, vaporizzando insieme le due fragranze, una femminile ed una maschile, ognuno potrà creare un terzo accordo olfattivo unisex. La scelta del giorno di San Valentino per il lancio di questo nuovo prodotto non è stata dunque casuale. L'evento di lancio ha riscosso grandissimo successo. Dopo uno spettacolo teatrale in cui la storia di Paolo e Francesca è stata narrata con i Cinque Sensi, le due protagoniste di Mumu, Emi Morelli e Roberta Grifantini, hanno guidato il pubblico alla scoperta delle note olfattive delle due fragranze. Circa 50 dottorandi e dottorande del primo anno del 33esimo ciclo della School of Advanced Studies di Unicam, provenienti da tutto il mondo, sono giunti a Camerino nei giorni scorsi per i seminari sulle attività trasversali che sono comuni a tutti gli ambiti disciplinari. Ed è proprio in questa occasione che ha voluto essere presente anche il rettore Unicam, Claudio Pettinari, che insieme al direttore della scuola di dottorato, Roberto Cicco Cioppo, ha portato il suo saluto di benvenuto in Ateneo e un augurio di buon lavoro, sottolineando quanto sia importante la formazione dottorale, quanto l'Ateneo ci investa per offrire opportunità ai giovani, al territorio e alle aziende. Bene, io mi fermo qui, non ci sono altre notizie, io vi ricordo che l'appuntamento con Unicam News torna mercoledì prossimo e a tutti voi ricordo che tutte le informazioni e le notizie sull'Università di Camerino sono disponibili sul nostro sito www.unicam.it. A tutti voi grazie per essere stati con noi e buon proseguimento con i nostri programmi. Grazie per la visione!